Benvenuti in taverna. Recentemente ho iniziato qui sul canale una piccola serie di video volta a spiegare a tutto tondo le varie vocazioni presenti in Dragon's Dogma Dark Arisen. La volta scorsa abbiamo parlato della vocazione del guerriero e oggi passiamo invece alla faccia opposta della medaglia. Oggi parleremo della vocazione del mago. Io sono Leech e benvenuti in un nuovo contorno della taverna. In Dragon's Dogma il mago è un abile incantatore magico che utilizza come arma principale il bastone magico per lanciare incantesimi di natura offensiva e difensiva. I maghi possono essere abili guaritori, fornire aiuto in battaglia attraverso l'infusione delle armi o combattere loro stessi tramite le magie offensive. Tutto questo ovviamente tramite l'utilizzo di una vasta gamma di incantesimi derivanti dalle 5 arci magie o semplicemente detti elementi presenti all'interno del gioco. Piccolo punto, in questo video non mi metterò a parlare a 360 gradi di quali siano le meccaniche nascoste e le funzionalità dei singoli elementi. Per quello c'è un video apposta che trovate in descrizione dove parlo per bene della questione. Per questo video vi basterà sapere che gli elementi effetti collegati sono fuoco bruciatura, ghiaccio congelamento, fulmine elettroshock, sacro cura sacra e oscurità critici oscure. E ogni volta che parlerò di un arci magia o elemento, questo sarà immediatamente sempre ricollegato a questi effetti secondari qui. Nessuna eccezione fatta, questo servirà ad alleggerire di moltissimo la mole del seguente video. Ma tornando al discorso principale, i maghi sono un ottimo componente strategico del gruppo, data la loro versatilità in combattimento. Visto che possono curare ingenti feriti in un attimo a tutto il gruppo, rimuovere debilitazioni, dare potenziamenti e nel mentre fare anche moltissimi danni al gruppo avversario, dato che in questo mondo la magia è estremamente potente. Tuttavia non tutto ciò che luccica è oro, dato che sono molto potenti quanto fragili. Infatti sotto il punto di vista degli HP, della difesa fisica e della stamina rimangono veramente tanto indietro. Il tutto inoltre è condito dal fatto che in generale i maghi, per quanto riguarda l'equipaggiamento, possono solo indossare indumenti e non armature, dato che il ferro viene evitato come la peste visto il suo interferire con la magia degli incantatori. Ovviamente di tutta risposta sviluppano un attacco magico e una difesa magica molto superiore alla norma, ma in generale per un mago è meglio evitare il contatto diretto con il nemico rimanendo a debita distanza mentre lancia i suoi incantesimi. Ovviamente il potere di questi deriva dall'attacco magico del mago in questione, e di fatto è la sua statistica principale. Quindi riassumendo, i maghi sono un ottimo componente strategico di un gruppo, possono curare, potenziali, supportare e fare anche tanti danni, ma sono anche molto fragili e vanno difesi o occultati, dato che attireranno non poche attenzioni da parte dei nemici. Ma ora passiamo come di consueto alla parte più concreta, ovvero i dati di gioco. Il mago è una delle tre vocazioni base che potrete scegliere all'inizio del gioco come vostra vocazione iniziale, e come potete vedere nella tabella a schermo, e come detto poc'anzi, i suoi punti forti sono l'attacco magico e la difesa magica, con anche un'onesta quantità di stamina ai livelli più alti, che ricordiamo essere estremamente necessaria per utilizzare le abilità, e nel caso del mago questa è ancora più necessaria dato che combatte praticamente solo tramite le abilità. Inoltre, soprattutto dal livello 100 al 200, il suo sviluppo fisico è praticamente nullo e ciò lo porta ad essere molto vulnerabile contro la stragrande maggioranza dei nemici. Ma per entrare ancora più nello specifico, queste sono le tabelle base e di crescita di un mago. Come già detto in un altro video dove spiego come funziona l'aumento delle statistiche che troverete sotto in descrizione, esistono in breve tre range di livello dove le statistiche del vostro personaggio aumenteranno in modo differente. Questi range vanno dal livello 1 al 10, dall'11 al 100 e dal 101 al 200. Ma mettete pure in pausa il video per spirciare per bene l'aumento delle statistiche di un mago puro. Ma ora che abbiamo analizzato il suo ruolo nel gruppo e il procredire delle sue statistiche, parliamo delle sue abilità e capacità di classe. Partendo dalle sue core skill, abbiamo Dardo Magico, sbloccata fin da subito, questa è la combo base di attacchi leggeri della vocazione del mago, che può essere anche ripetuta all'infinito. Questo attacco consiste in una serie di dardi magici sparati a ripetizione verso i bersagli e se usati mentre si salta, questa consisterà in un singolo dardo che genererà anche un piccolo contraccolpo in aria. Ma non è tutto, dato che questa core skill ha una peculiarità molto interessante, ovvero che possiede diverse varianti in base all'elemento infuso nel bastone, e come per le arci magie, ne abbiamo 5. La variante del fuoco farà sparare tante piccole palle di fuoco, le quali esplodono all'impatto generando un piccolo aoi che farà donna a tutte le creature adiacenti. La variante del ghiaccio invece creerà delle piccole sfere di ghiaccio che rimarranno brevemente sospese in aria per poi partire tutte insieme verso il bersaglio mirato. Sono ottime per creare un piccolo sbarramento difensivo di fronte al mago, dato che possono colpire le creature anche quando queste sono sospese in aria. La variante del fulmine sparerà tanti piccoli dardi elettrici che possono rimbalzare tra le varie creature adiacenti a quella colpita generando un bel effetto aoi. La variante dell'oscurità invece evocherà tutta una serie di piccoli dardi di oscurità che inseguiranno lentamente le creature, e questi sul colpo, oltre a infliggere danni, potranno anche far volare via le creature più piccole generando tanti piccoli abbattimenti. Infine abbiamo la variante del sacro, la quale creerà delle sfere di luce sacra che appena rilasciate risultano molto lente ma che dopo qualche secondo colpiranno istantaneamente le creature. Questa variante è molto buona data dalla sua natura di proietti la ricerca, dato che in caso non si abbia un bersaglio preciso colpirà qualsiasi creatura a portata, sia essa nascosta in un cespuglio, nell'oscurità o altro, ed è estremamente efficace soprattutto contro tutte quelle creature veloci e difficili da colpire. E queste erano tutte le varianti dell'attacco base. Inoltre vi ricordo che come per tutti gli incantesimi, anche queste varianti mantengono gli effetti secondari dei vari elementi, ma come detto prima non ne parleremo a 360 gradi e troverete il video in questione sotto in descrizione. Ma ora proseguiamo che siamo solo all'inizio della lista. Colpo di bastone, sbloccata fin da subito, questo è l'attacco pesante del mago e consiste in una coppia di attacchi inspazzata con il bastone che può essere anche effettuata a mezz'aria, diventando un colpo singolo con una velocità di attacco maggiore. Questo attacco ha un potere di stordimento abbastanza basso ed è principalmente utile contro creature di taglia piccola e inoltre può infliggere gli effetti secondari dei vari elementi se infuso con essi. Levitazione, sbloccata al secondo rango della vocazione del mago, questa abilità va capita dato che si permette di levitare per una manciata di secondi, ma a differenza di quanto dice la descrizione, questa abilità non permette in alcun modo di alleggerire o prevenire danni da caduta, ma serve principalmente ad allungare la distanza di salto in ambito esplorativo per raggiungere punti che altrimenti non sarebbero raggiungibili in alcun modo. Agente Magico, sbloccata al terzo rango della vocazione del mago, questa abilità è la forma avanzata di colpo di bastone e permette di evocare intorno all'incantatore tutta una serie di piccole sfere di magia che fungono a scudo protettivo e che durano per circa 30 secondi. Questo viene fatto tenendo premuto il pulsante di attacco pesante e può essere anche fatto a mezz'aria non avendo però variazioni. Inoltre anche queste sfere, come per Dardo Magico, ereditano gli effetti secondari dell'elemento infuso nel bastone e infine, piccola chiecca da veterano, consiglio di attivare il caricamento di questa abilità tramite l'attacco pesante in salto, questo perché velocizza il tutto e lascia molto meno scoperto il mago che la utilizza. Saetta concentrata, sbloccata al quarto rango della vocazione del mago, questa abilità è la forma avanzata di Dardo Magico e permette di sparare tutta insieme una serie di potentissimi dardi magici caricati. Questo viene fatto tenendo premuto il pulsante dell'attacco leggero e può essere anche utilizzato a mezz'aria. E anche qui, come per Dardo Magico, in caso il bastone sia infuso, possiamo avere le 5 varzioni elementali con annessi effetti secondari. La variante del fuoco spara una serie di piccole pare di fuoco che riescono a raggiungere quasi il danno di un bracere. Queste fanno volare via le creature di taglia piccolamente contro le altre e hanno una capacità di abbattimento e stordimento veramente buona. La variante del ghiaccio evoca 6 sfere di ghiaccio che inizialmente fluttuano per qualche secondo per poi proiettarsi contro il bezzaio infliggendo molti danni. Queste, oltre a fungere da sbarramento difensivo, hanno anche un potere di abbattimento molto alto, soprattutto contro creature di taglia piccola e media. Questo tuttavia non accade durante il loro stato iniziale. La variante del fulmine spara 5 sfere di elettricità in diverse direzioni, le quali cominceranno a rimbalzare da tutte le creature di intorni infliggendo danni, rendendo questa variante veramente molto buona quando ci si ritrova in degli spazi stretti. Inoltre, se abbastanza rimbalzi colpiscono una creatura di taglia piccola, questa avrà una buona probabilità di volare via. La variante dell'oscurità evocherà 6 sfere di energia oscura che fluttueranno lentamente verso il bersaglio puntato infliggendo molti danni. Tuttavia queste sfere, a differenza delle altre varianti, hanno un tempo di durata veramente basso e ciò crea il bisogno di doverle evocare a distanza ravvicinata. Inoltre, se usate su creature di taglia piccola, queste riusciranno molto probabilmente a tenere sollevato da terra il bersaglio, lasciandolo in balia degli attacchi. Infine abbiamo la variante del sacro. Come per la versione base, questa è a mani basse la più potente fra tutte, dato che evoca 6 sfere di luce sacra che orbitano per qualche attimo vicino al mago prima di trasformarsi in dei raggi di luce divina che si proiettano istantaneamente sul bersaglio. Questi raggi, oltre ad infliggere tantissimi danni, hanno un'altissima probabilità di trapassare il bersaglio colpito riuscendo quindi a colpire anche un secondo bersaglio dietro al primo. In più questi raggi hanno un'altissima probabilità di superare oggetti solidi rendendoli pressoché inevitabile e infine più si è lontani dal bersaglio e più questo colpo infliggerà danni, quindi come potete capire questo attacco non è per niente male, anzi. E ricordate, ognuna di queste varianti può infliggere anche gli effetti secondari dell'elemento associato, rendendo ancora più forte questo attacco del mago. E queste erano le core skills del mago, che ci fanno capire fin da subito quanto sia molto più schivo nei confronti del combattimento ravvicinato preferendo invece una distanza medio-lunga. Tuttavia però dispone anche di qualche manovra difensiva che lo aiuta a difendersi e uscire dalle situazioni troppo ravvicinate. Ma passiamo ora alla mega lista di incantesimi che il mago può sbloccare e potenziare mentre avanza in questa vocazione. Come detto prima, l'unica arma utilizzata da un mago è il bastone, e grazie ad esso può equipaggiare contemporaneamente fino a 6 incantesimi. Ma andiamo subito a dargli un'occhiata. Bracere, appartenente all'arci magia del fuoco, questo incantesimo è sbloccato fin dall'inizio e sarà la prima abilità offensiva di un mago. Questo permette di sparare una palla di fuoco che esploderà una volta entrata a contatto con il bersaglio. La palla di fuoco ha due effetti. Il primo è quello del normale colpo sul singolo bersaglio con un ottimo potere di abbattimento e stordimento, mentre il secondo è quello di un piccolo effetto OE generato dall'esplosione della palla di fuoco che avrà la chance di colpire molteplici bersagli con una buona potenza di abbattimento e stordimento. Entrambi hanno la chance di infliggere la debilitazione bruciatura. Sollievo, appartenente all'arci magia del sacro, questo incantesimo è sbloccato fin dall'inizio e sarà la prima abilità curativa di un mago. Questo permette di invocare in un punto a piacere o su un alleato un sigillo magico che rimane attivo per circa 10 secondi, e che cura tutti gli alleati a contatto per un ammontare di 55 HP al secondo per una potenziale cura totale di 555 HP. Questo sigillo inoltre può infliggere danni di natura sacra a non morti, scheletri e fantasmi, i quali hanno inoltre un'altissima probabilità di attivare la cura sacra. Voglio però aggiungere una piccola chiccata veterano. Per chi non lo sapesse in Dragon's Dogma le armi d'oro arrugginite e anelate inizialmente sono abbastanza basic, tuttavia se potenziate sviluppano la possibilità di infliggere debilitazioni come silenzio, cecità e compagnia. Ecco, utilizzando quelle armi, tale effetto viene infuso anche nel sigillo stesso. Ghiacciata, appartenendo all'arci magia del ghiaccio, questo incantesimo viene sbloccato al primo rango della vocazione del mago. Questo permette di evocare e mantenere attorno all'utilizzatore una piccola tormenta di ghiaccio che potrà poi essere concentrata in unica ondata di vento gelato premendo il pulsante dell'attacco leggero o del pesante. La prima di queste due cose farà camminare più lentamente l'utilizzatore facendogli consumare circa 30 di stamina al secondo ed è più utile se si vuole infliggere svariate volte di fila la debilitazione congelamento per permettere ai propri compagni di approfittarne. La seconda invece è un'ondata di freddo che verrà direzionata davanti all'incantatore che potrà infliggere congelamento quasi al 100% a qualsiasi creatura che non ne sia immune. Infine, piccola chicca, in caso vogliete annullare l'incantesimo senza dover lanciare la raffica di vento, vi basterà saltare. Questa è una cosa molto comune con tutti gli incantesimi che vengono mantenuti. Folgore. Appartenente all'arci magia del fulmine, questo incantesimo viene sbloccato al primo rango della vocazione del mago. Questo permette di evocare dal cielo tre fulmini che hanno una buona potenza di abbattimento e che potranno essere indirizzati tutti sullo stesso bersaglio o anche sul molteplici. Questo può essere fatto premendo la levetta a destra del vostro controller e vi permetterà di passare da una modalità di mira manuale a una con puntamento. Inoltre questo incantesimo permette di bersagli di creature fuori vista, il che lo rende veramente utile per stanare i possibili imboscati da cespugli, oscurità e affini. Per non parlare poi della possibilità di infliggere la debilitazione elettroshock a tutte le creature vicino al bersaglio. Dono del fuoco. Appartenente all'arci magia del fuoco, questo incantesimo viene sbloccato al primo rango della vocazione del mago. Questo permette all'utilizzatore di lanciare verso un alleato un piccolo dardo di fuoco che incanterà le sue armi con l'elemento del fuoco per una durata di circa 40 secondi. I danni inflitti dall'elemento scalano sull'attacco magico dell'incantatore. Inoltre premendo la levetta a sinistra del controller si potrà mirare se stessi. Infine, le armi incantate con questo incantesimo potranno infliggere la debilitazione bruciatura. Dono del ghiaccio. Appartenente all'arci magia del ghiaccio, questo incantesimo viene sbloccato al primo rango della vocazione del mago e come per dono del fuoco, questo ha lo stesso effetto, solo donando un incantamento del ghiaccio e permettendo di infliggere la debilitazione ghiacciato. Dono del tuono. Appartenente all'arci magia del fulmine, questo incantesimo viene sbloccato al primo rango della vocazione del mago, solo che dono un incantamento del fulmine e permettendo di infliggere la debilitazione elettroshock. Dono sacro. Appartenente all'arci magia del sacro, questo incantesimo viene sbloccato al terzo rango della vocazione del mago, solo che dona un incantamento del sacro e permettendo di eseguire la cura sacra. Dono Oscuro. Appartenente all'Arcimagia dell'Oscurità, questo incantesimo viene sbloccato al terzo rango della vocazione del mago, solo che dona un incantamento dell'Oscurità e permettendo di eseguire i critici oscuri. Bracere Letale. Appartenente all'Arcimagia del Fuoco, questo incantesimo viene sbloccato al terzo rango della vocazione del mago, ed è la forma avanzata di Bracere. Questo richiede la carica della seconda barra di incantamento per essere utilizzato e, oltre a infliggere molti più danni, permette all'utilizzatore di lanciare tre palle di fuoco anziché una. Queste, come per tutti gli incantesimi e più proiettili, possono essere lanciate tutte sullo stesso bersaglio o divise tra molteplici sempre tramite l'ausilio della levetta destra del controller. Ghiacciata totale. Appartenente all'Arcimagia del ghiaccio, questo incantesimo viene sbloccato al terzo rango della vocazione del mago, ed è la forma avanzata di ghiacciata. Questo richiede la carica della seconda barra di incantamento per essere utilizzato e, semplicemente, potenzia l'incantesimo in tutte le sue qualità tra danno, portata di entrambi gli attacchi e possibilità a infliggere la debilitazione e congelamento. Folgore mortale. Appartenente all'Arcimagia del fulmine, questo incantesimo viene sbloccato al terzo rango della vocazione del mago, ed è la forma avanzata di folgore. Questo richiede la carica della seconda barra di incantamento per essere utilizzato e permette di evocare dal cielo sei fulmini, aumentandone inoltre anche i danni, potere di abbattimento, distordimento e possibilità di infliggere la debilitazione elettroshock a tutte le creature vicine al bersaglio colpito. Aura guaritrice. Appartenente all'Arcimagia del sacro, questo incantesimo viene sbloccato dal terzo rango della vocazione del mago. Questo permette di invocare in un punta piacere o su un alleato un sigillo magico che rimane attivo per circa 10 secondi, e che rimuove da tutti gli alleati a contatto le debilitazioni avvelenato, torpore, silenzio, bruciatura e ghiacciato. Questo sigillo inoltre può infliggere danni di natura sacra a non morti, schedri e fantasmi, i quali hanno inoltre un'altissima probabilità di attivare la cura sacra. Infine, anche questo incantesimo come sollievo infonde nel sigillo l'effetto dell'arma. Silentium. Appartenente all'Arcimagia dell'Oscolità, questo incantesimo viene sbloccato al quarto rango della vocazione del mago. Questo permette di evocare e mantenere attorno all'utilizzatore una piccola aura magica di circa 2 metri che infliggerà la debilitazione silenzio per circa un minuto a tutti i nemici che ci entrano a contatto a lungo. Mantenere l'incantesimo attivo consuma 15 stamina al secondo, e durante questo l'utilizzatore potrà solo camminare molto lentamente in giro e potrà annullare l'incantesimo premendo il tasso del salto o terminando la propria stamina a disposizione. Annebbiamento. Questo è molto simile a Silentium, dato che anche lui evoca una piccola aura magica attorno all'utilizzatore di circa 2 metri. In questo caso però questa infliggerà debilitazione e cecità per circa un minuto con anche delle piccole differenze nell'incantesimo di per sé, dato che utilizza 20 di stamina al secondo per essere mantenuto attivo e permette un movimento leggermente migliore rispetto a Silentium. Vampata. Appartenente all'arci magia del fuoco, questo incantesimo viene sbloccato al quinto rango della vocazione del mago. Questo permette di evocare in un punta piacere o su un nemico un torreggiante muro di fuoco che nell'immediata esplosione ha un enorme potere di abbattimento in grado di sbalzare in cielo praticamente tutti i nemici non giganti del gioco. Dopo l'esplosione iniziale le fiamme continueranno a bruciare e a danneggiare tutti i nemici nelle vicinanze. Inoltre questo incantesimo è in grado di infliggere molto facilmente la debilitazione e bruciatura anche ai nemici più resistenti al fuoco come i sauri, e per quanto non possa sembrare anche veramente utile contro i nemici volanti come le arpie e i grifoni affini dato che l'altezza del muro di fuoco è molto più alto di quanto l'animazione di a vedere. Glaciem. Appartenente all'arci magia delle ghiacce, questo incantesimo viene sbloccato al quinto rango della vocazione del mago. Questo permette di evocare dal terreno in un punta piacere o su un nemico una gigantesca stalagmite di ghiaccio che ha un potere di abbattimento in grado di sbalzare in cielo praticamente tutti i nemici non giganti del gioco. Inoltre questa una volta colpito il bersaglio lascerà a terra una piattaforma di ghiaccio che può essere utilizzata per accedere a zone inaccessibili. Ma la sua utilità non finisce qui, visto che la piattaforma funge praticamente da bomba magica. Questa infatti alla sua dispersione esploderà in mille schegge di ghiaccio che colpiranno tutte le creature attorno ad essa. Allo stesso modo questa cosa accade se viene colpita da un nemico. Infine tutto quello che ho citato poc'anzi ha la possibilità di infliggere la debilitazione e congelamento alle creature. FRAGORE Appartenendo all'arce magia del fulmine questo incantesimo viene sbloccato al quinto rango della vocazione del mago. Questo permette di evocare nella mano dell'utilizzatore una gigantesca frusta fatta di fulmini, la quale permette di eseguire sversati orizzontali e verticali premendo rispettivamente il tasso dell'attacco leggero e dell'attacco pesante. Queste hanno un enorme potere di abbattimento e stordimento. Mantenere l'incantesimo attivo consuma 36 di stamina al secondo e a differenza di altri incantesimi simili questo non rallenta minimamente l'utilizzatore. Inoltre si può annullare il mantenimento premendo il tasto del salto e facendolo si faranno cadere dal cielo tre fulmini che bersaglieranno automaticamente i bersagli più vicini. Questi fulmini hanno caratteristiche e danni uguali a quelli dell'incantesimo folgore. Questo incantesimo come potete notare è veramente utile contro grandi orde di nemici e lo è ancor di più contro nemici di taglia grande che possono essere colpiti molteplici volte dallo stesso attacco. Infine anche questo incantesimo come sollievo infonde nei vari colpi della frusta e dei fulmini l'effetto dell'arma. Arampino Appartenente all'arce magia dell'oscurità questo incantesimo viene sbloccato al quinto rango della vocazione del mago. Questo è evocare i tentacoli di oscurità che si attaccano e immobilizzano sul posto creature di taglia piccola e media infliggendo nel mentre anche piccoli danni di oscurità rendendo inoltre il nemico completamente scoperto agli attacchi degli alleati. Questo incantesimo può essere usato anche da più incantatori contemporaneamente per bloccare i nemici più ostici nelle prime fasi di gioco. Inoltre anche qui come per sollievo utilizzando armi d'oro arrugginite e annelate è possibile infondere l'effetto delle debilitazioni nell'incantesimo stesso il che lo rende perfetto per infliggere debilitazioni di stato. Infine questo incantesimo ha un'altra probabilità di infliggere i critici oscuri. Affinità di fuoco Appartenente all'arcimagia del fuoco questo incantesimo viene sbloccato al sesto rango della vocazione del mago e dalla forma avanzata di dono del fuoco. Questo richiede la carica della seconda barra di incantamento per essere utilizzato e semplicemente potenzia l'incantesimo in tutte le sue qualità portando a due minuti la durata dell'incantamento, aumentando danni da fuoco generali e aumentando di molto la probabilità di infliggere la debilitazione e bruciatura quando si colpisce una creatura. Affinità di ghiaccio Appartenente all'arcimagia del ghiaccio questo incantesimo viene sbloccato al sesto rango della vocazione del mago ed è la forma avanzata di dono del ghiaccio e come per il precedente l'effetto è esattamente lo stesso, solo infondendo l'elemento del ghiaccio. Affinità del tuono Appartenente all'arcimagia del fulmine questo incantesimo viene sbloccato al sesto rango della vocazione del mago ed è la forma avanzata di dono del tuono e come per il precedente l'effetto è esattamente lo stesso, solo infondendo l'elemento del fulmine. Affinità Sacra Appartenente all'arcimagia del sacro questo incantesimo viene sbloccato al sesto rango della vocazione del mago ed è la forma avanzata di dono sacro e come per il precedente l'effetto è esattamente lo stesso, solo infondendo l'elemento del sacro. Affinità Oscura Appartenente all'Arce Magia dell'Oscurità, questo incantesimo viene sbloccato al sesto rango della vocazione del mago e della forma avanzata di Don Oscuro, e come per il precedente l'effetto è esattamente lo stesso, solo infondendo l'elemento dell'oscurità. Silentium Totalum Appartenente all'Arce Magia dell'Oscurità, questo incantesimo viene sbloccato al sesto rango della vocazione del mago e della forma avanzata di Silentium. Questo richiede la carica della seconda barra di incantamento per essere utilizzato e, oltre ad applicare più facilmente Silenzio, aumenta a 3 metri l'area d'effetto dell'incantesimo e permette all'utilizzatore di muoversi un po' più velocemente mentre mantiene l'incantesimo. Tuttavia il costo di mantenimento dell'incantesimo sale a 30 di stamina al secondo, per il resto ha le stesse meccaniche della sua forma base. Offuscamento Appartenente all'Arce Magia dell'Oscurità, questo incantesimo viene sbloccato al sesto rango della vocazione del mago e della forma avanzata di Annebbiamento. Questo richiede la carica della seconda barra di incantamento per essere utilizzato e, oltre ad applicare più facilmente Cecità, aumenta a 3 metri l'area d'effetto dell'incantesimo e permette all'utilizzatore di muoversi ancora più liberamente mentre mantiene l'incantesimo. Tuttavia il costo di mantenimento sale a 40 di stamina al secondo, per il resto ha le stesse meccaniche della sua forma base. Rogo Appartenente all'Arce Magia del Fuoco, questo incantesimo viene sbloccato al settimo rango della vocazione del mago e della forma avanzata di Vampata. Questo richiede la carica della seconda barra di incantamento per essere utilizzato e potenzia l'incantesimo sotto tutti i suoi punti di vista tra danni, durata, numero di colpi inflitti, ampiezza, altezza e possibilità di infliggere ancora più facilmente la debilitazione e bruciatura. Glacium Totale Appartenente all'Arce Magia del Ghiaccio, questo incantesimo viene sbloccato al settimo rango della vocazione del mago e della forma avanzata di Glacium. Questo richiede la carica della seconda barra di incantamento per essere utilizzato e porta a 3 il numero di stalagmiti che vengono evocate dal terreno. Per il resto potenzia l'incantesimo sotto tutti i suoi punti di vista tra danni, numero di colpi inflitti e possibilità di infliggere la debilitazione e congelamento. Fragore Appartenente all'Arce Magia del Fulmine, questo incantesimo viene sbloccato al sesto rango della vocazione del mago e della forma avanzata di Fragore. Questo richiede la carica della seconda barra di incantamento per essere utilizzato e potenzia l'incantesimo sotto tutti i suoi punti di vista, aumentando inoltre al 5 il numero di Fulmine evocati quando si annulla il mantenimento dell'incantesimo. Tuttavia il suo costo di mantenimento sarà a 45 di stamina al secondo. Sollievo della Pace Appartenente all'Arce Magia del Sago, questo incantesimo viene sbloccato al settimo rango della vocazione del mago e della forma avanzata di Sollievo. Questo richiede la carica della seconda barra di incantamento per essere utilizzato e nonostante non aumenti il tempo di durata del sigillo, questo avrà degli effetti più potenti. Infatti curerà tutti gli alleati a contatto per un ammontare di 111 HP al secondo, il doppio della sua forma base. Ma non è tutto, dato che il sigillo ora avrà un effetto curativo minore anche sugli alleati che ci sono stati a contatto per poco o che perdurano al suo interno. Questo effetto secondario cura gli alleati per un ammontare di 9 HP al secondo per circa 10 secondi, e ciò porta questo incantesimo ad avere una potenziale cura totale di 1200 HP, più del doppio della sua precedente. Infine c'è da precisare che come la sua forma base, ovviamente anche questo può infliggere danni di natura sacra a non morti, schedi e fantasmi. Questo comprende anche il suo nuovo effetto. Aura miracolosa. Appartenente all'arci magia del sacro, questo incantesimo viene sbloccato al settimo rango della vocazione del mago e della forma avanzata di aura guaritrice. Questo richiede la carica della seconda barra di incantamento per essere utilizzato e semplicemente potenzia l'incantesimo sotto tutti i suoi punti di vista portando la sua dorata a 15 secondi. Rampino avvolgente. Appartenente all'arci magia dell'oscurità, questo incantesimo viene sbloccato all'ottavo rango della vocazione del mago e della forma avanzata di rampino. Questo richiede la carica della seconda barra di incantamento per essere utilizzato e potenzia l'incantesimo sotto tutti i suoi punti di vista rendendo ora possibile l'immobilizzazione di creature giganti. Ciò include nella lista anche cose come grifoni, ciclopi giganti, viverne e addirittura da Imon stesso. Scudo antimagia. Appartenente all'arci magia del sacro, questo incantesimo viene sbloccato all'ottavo rango della vocazione del mago. Questo permette di evocare e mantenere attorno all'utilizzatore un piccolo sigillo di magia sacra che potenzierà per circa 60 secondi le difese degli alleati che ci entrano a contatto. Questo potenziamento consiste in una riduzione del 20% dei danni subiti e in un aumento della resistenza all'abbattimento e allo stardimento del 100%. Può essere applicato fino a 4 volte su ogni alleato. Inoltre, come per gli altri sigili di natura sacra, anche questo infligge danni di natura sacra non morti, scheletri e fantasmi. Infine, anche questo incantesimo come sollievo infonde l'effetto dell'arma. Barriera antimagia. Appartenente all'arci magia del sacro, questo incantesimo viene sbloccato al nonno rango della vocazione del mago e della forma avanzata di scudo antimagia. Questo richiede la carica della seconda barra di incantamento per essere utilizzato e potenzia l'incantesimo sotto tutti i suoi punti di vista, portando ora a 90 secondi la durata del potenziamento che dà gli alleati. Bracere ferale. Appartenente all'arci magia del fuoco, questo incantesimo viene sbloccato equipaggiando l'anello del bastone o la fascia del bastone che potete trovare nel DLC di nerabisso. Questo incantesimo è la forma finale di Bracere Letale e richiede la carica della terza barra di incantamento per essere utilizzato e potenzia l'incantesimo in toto portando a 5 il numero di palle di fuoco che vengono lanciate. Folgore totale. Appartenente all'arci magia del fulmine, questo incantesimo viene sbloccato equipaggiando l'anello del bastone o la fascia del bastone che potete trovare nel DLC di nerabisso. Questo incantesimo è la forma finale di Folgore mortale e richiede la carica della terza barra di incantamento per essere utilizzato e potenzia l'incantesimo in toto portando a 9 il numero di fulmini che vengono evocati dal cielo. Glacium ferale. Appartenente all'arci magia del ghiaccio, questo incantesimo viene sbloccato equipaggiando la fascia del bastone o l'anello del mago o la fascia del mago che potete trovare nel DLC di nerabisso. Questo incantesimo è la forma finale di Glacium totale e richiede la carica della terza barra di incantamento per essere utilizzato e potenzia l'incantesimo in toto portando a 5 il numero di stalagmiti che vengono evocate dal terreno. Folgore totale. Appartenente all'arci magia del fulmine, questo incantesimo viene sbloccato equipaggiando la fascia del bastone o l'anello del mago o la fascia del mago che potete trovare nel DLC di nerabisso. Questo incantesimo è la forma finale di fragore dell'eterio e richiede la carica della terza barra di incantamento per essere utilizzato e potenzia l'incantesimo in tutte le sue caratteristiche, portando il consumo di stamina per il mantenimento a 28 di stamina al secondo, ovvero meno della sua forma base. Inoltre sviluppa una caratteristica extra che farà cadere due fulmine dal cielo ogni volta che si attaccherà con la frusta, rendendo questo incantesimo un vero e proprio dispenser di danno. Sollievo eterno. Appartenente all'arci magia del sacco, questo incantesimo viene sbloccato equipaggiando l'anello del fattucchiere o la fascia del fattucchiere che potete trovare all'interno del DLC di nerabisso. Questo incantesimo è la forma finale di sollievo della pace e richiede la carica della terza barra di incantamento per essere utilizzato e potenzia l'incantesimo in tutte le sue caratteristiche, aumentando potenza della cura e durata dei vari sigilli effetti. Per la precisione, la durata del sigillo principale aumenta a 15 secondi e la sua cura a contatto sale a 126 HP al secondo. Il suo effetto secondario invece aumenta la durata a 20 secondi e cura per 18 HP al secondo, portando questo incantesimo ad avere una potenziale cura totale di 2250 HP in circa 20 secondi. Questa è letteralmente la cura definitiva e può essere usata come le sue precedenti versioni anche per fare ingenti danni di natura sagra non morti, scheletri e fantasmi. Patto del fuoco. Appartenente all'arci magia del fuoco, questo incantesimo viene sbloccato equipaggiando l'anello del fattucchiere o la fascia del fattucchiere che potete trovare nel DLC di nerabisso. Questo incantesimo è la forma finale di affinità di fuoco e richiede la carica della terza barra di incantamento per essere utilizzato e potenzia l'incantesimo sotto tutti i suoi punti di vista portando a 3 minuti la durata dell'incantamento, aumentando danni da fuoco generali e aumentando di moltissimo la probabilità di infliggere la debilitazione e bruciatura quando si colpisce una creatura. Patto del ghiaccio. Appartenente all'arci magia del ghiaccio, questo incantesimo viene sbloccato equipaggiando l'anello del fattucchiere o la fascia del fattucchiere che potete trovare nel DLC di nerabisso. Questo incantesimo è la forma finale di affinità di ghiaccio e come per il precedente l'effetto è esattamente lo stesso, solo infondendo l'elemento del ghiaccio. Patto del tuono. Appartenente all'arci magia del fulmine, questo incantesimo viene sbloccato equipaggiando l'anello del fattucchiere o la fascia del fattucchiere che potete trovare nel DLC di nerabisso. Questo incantesimo è la forma finale di affinità del tuono e come per il precedente l'effetto è esattamente lo stesso, solo infondendo l'elemento del fulmine. Patto sacro. Appartenente all'arci magia del sacro, questo incantesimo viene sbloccato equipaggiando l'anello del fattucchiere o la fascia del fattucchiere che potete trovare nel DLC di nerabisso. Questo incantesimo è la forma finale di affinità sacra e come per il precedente l'effetto è esattamente lo stesso, solo infondendo l'elemento del sacro. Patto scuro. Appartenente all'arce magia dell'oscurità, questo incantesimo viene sbloccato equipaggiando l'anello del fattucchiere o la fascia del fattucchiere che potete trovare nel DLC di Nero Abisso. Questo incantesimo ha la forma finale di affinità oscura e, come per il precedente, l'effetto è esattamente lo stesso, solo infondendo l'elemento dell'oscurità. E questo era tutto per quanto riguarda gli incantesimi del mago. Come potete notare, sono tantissimi e molto variegati proprio per potersi adattare a tutti gli istituti di gioco e a tutte le situazioni che potete incontrare, e permettono di creare un mago di qualsiasi genere che sia un support puro, un dps puro, una via di mezzo o anche un mix di vario genere. Passiamo infine all'ultima branca di cose sbloccabili della vocazione del mago, ovvero le capacità, che come sappiamo sono condivise tra tutte le vocazioni del gioco, quindi una capacità sbloccata con il mago sarà utilizzabile anche dal guerriero, dal cacciatore o chiunque sia, ma vediamo cosa ad offrirci il mago. Possanza spirituale. Sbloccata al secondo rango della vocazione del mago, questa capacità permette di aumentare il proprio attacco magico quando questi si trovano con la salute critica. Questa viene identificata quando la vostra barra della vita diventa rossa e quando appaiono delle macchie di sangue sullo schermo. L'aumento dell'attacco magico è del 50% nel gioco base e del 20% nel DLC di Dark Arisen. Inoltre può essere usata insieme ad altre capacità affine, anche se il bonus massimo che potete avere sulla statistica sarà dell'80%, quindi tenetelo in mente quando scegliete le altre capacità. Intervento divino. Sbloccata al secondo rango della vocazione del mago, questa capacità, a differenza di quanto dice la sua descrizione, non riduce in alcun modo nessun tipo di danno cumulativo simili, ma protegge o previene invece la possibilità di essere afflitti da debilitazioni di natura magica come bruciatura, pietrificazione, ciccità e tutto il resto, rendendo il mago praticamente immune a tutte queste cose. Piccola cliccata veterano. Se si utilizza in combo con la capacità prevenzione, ovvero la controparte fisica, ciò renderà la risen praticamente immune a qualsiasi debilitazione presente all'interno del gioco. Rebulzione magica. Sbloccata al quarto rango della vocazione del mago, questa capacità aumenta la difesa magica di un certo ammontare che cambia a seconda della difficoltà. Più precisamente, se si ha normale, aumenta di 30 sia nel gioco base che nel DLC di Nero Abisso, mentre se si ha difficile, aumenta di 135 nel gioco base e di 67.5 nel DLC di Nero Abisso. Beatitudine. Sbloccata al quarto rango della vocazione del mago, questa capacità aumenta la durata dei sigili degli incantesimi curativi del 50%. Questi sono Aura Qualitrice e Sollievo, compreso ovviamente tutte le loro versioni potenziate. Tuttavia, la descrizione è un po' forviante, dato che in generale questa capacità aumenta la durata di tutti gli incantesimi dotati di sigilli, compreso quindi anche quelli offensivi come Miasma o Rovina. Ma comunque questa è una capacità veramente utile se il vostro obiettivo è quello di creare un support puro, e tra l'altro piccola chicca da veterano. Anche il cappello dell'adepto ha questo effetto, e se usato in combo insieme si può arrivare a raddoppiare il bonus totale di tempo sui sigilli creati. Permanenza. Sbloccata al settimo rango della vocazione del mago, questa capacità aumenta la durata degli incantesimi elementali che possono essere applicati da maghi, stregoni e paladini sulle armi del gruppo di circa il 30%. E anche qui piccola chicca da veterano. Nei DLC di nerabisso alcune armature di livello 3 per le braccia hanno un bonus secondario che aumenta di un ulteriore 50% la durata di tutti gli incantesimi elementali ricevuti. Risonanza magica. Sbloccata al nonno rango della vocazione del mago, questa capacità aumenta del 10% l'attacco magico, e può essere utilizzata in combo con altre capacità affini per aumentare ulteriormente il bonus in caso vogliate estremizzare l'attacco magico. Tuttavia tenete a mente che il bonus massimo che potete avere su una statistica è dell'80%. Protezione arcana. Sbloccata al nonno rango della vocazione del mago, questa capacità è di mezzo a qualsiasi tipo di danno ricevuto mentre ci si sta preparando per lanciare un incantesimo. Piccolo consiglio. Questa è una di quelle capacità che si può usare in combinazione con altre capacità affini come autonomia dell'assassino o austerità dello stregone per rendere l'incantatore veramente inamovibile durante la preparazione degli incantesimi. E questo era tutto quello che c'è da sapere sul mago. Qual è il suo potenziale, cosa da offrire, qual è idealmente il suo ruolo e così via. Più proseguo nella scrittura e creazione di questi video, più anch'io scopro molte cose che prima non conoscevo e mi rendo sempre più conto di quanto Dragon's Dogma sia un gioco veramente magnifico e pieno di chicche che viene non poco sottovalutato nel mondo dei GDR Action. E spero di riuscire a trasmettervelo. Quindi in caso il video vi sia piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi che sono delle cose che danno sempre una gigantesca mano. Ma comunque, piccolo momento di spam personale. Sotto in descrizione troverete il mio link da affiliato HRK e Amazon e acquistando tramite quei link potrete supportarmi in modo completamente gratuito trovando inoltre tantissimi giochi e software a poco. In caso, grazie di cuore. Inoltre mi trovate in live sul sito Viola ogni settimana da lunedì al venerdì dalle 22 in poi, ovviamente salvo casini. Quindi in caso volete passare a fare un saluto siete più che benvenuti. Io sono Leach e la taverna sta chiudendo. Grazie a tutti per l'attenzione e al prossimo video. Grazie a tutti.